Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi vorrei fare un video tutorial di una ritmica contenuta in un brano di Bill Withers. Il brano in questione si intitola Kissing My Love, brano contenuto nell'album Still Bill uscito il primo maggio del 72 e poi replicato in tournée vari live. Mi riferisco tra l'altro a un live in particolare che è quello registrato per una tv tedesca in un club vero, quindi non in studio ma in un club, Debit Club di Brema in Germania, registrato per uno show televisivo della tv tedesca, registrato il 17 novembre del 72. Allora, la ritmica in questione è questa e poi vi spiegherò perché di questo video tutorial. Ok, come avete sentito questa ritmica è composta da un giro di quattro misure, quattro misure che anche nel brano girano come un loop, continuano a replicarsi. Allora, l'autore di questa ritmica e della registrazione dell'album è un grandissimo batterista. magari tanti non lo conoscono perché non ha un nome altisonante per il più, ma è il batterista, uno dei batteristi, forse il batterista più registrato nella storia del rhythm and blues funk. E sto parlando di James Gadsden. James Gadsden è batterista tuttora attivo, produttore, cantante, ha collaborato veramente con gli artisti di tutto il mondo. tra l'altro, se andate a vedere su wikipedia, vedete la sfilza enorme, infinita di collaborazioni, di artisti famosissimi. per quello che era uno dei batteristi più richiesti tra la fine degli anni sessanta e la fine degli anni ottanta, primi anni novanta. Dunque, adesso perché voglio fare questo video tutorial di questa ritmica? perché, girando su youtube, ho ascoltato e guardato molti batteristi molto bravi, tecnicamente veramente dotati, che affrontano questa ritmica e ci fanno dei video tutorial. Allora, purtroppo per loro, la maggior parte di loro, l'affronta con il linguaggio e la dizione sbagliata. Sbagliata è un termine un po' troppo grosso, però è una dizione, diciamo, errata. Perché la dizione della ritmica è come un impronta digitale, cioè è quella. Non ci si può sbagliare su un brano del genere. Allora, tanti la affrontano suonando la shuffle, quindi... Altri la affrontano con le quartine di sedicesimi, con l'accentuazione sul primo e terzo sedicesimo. Altri ancora lo affrontano con la quartina puntata, la quartina di sedicesimi puntata. Non è nessuna di queste ritmiche. Lo fate sentire all'inizio la dizione esatta. È una dizione presa dal linguaggio jazzistico. Purtroppo questa dizione non è scrivibile in musica. È una cosa che bisogna suonare. Questa è la ritmica esatta. Non è né terzina, né quartina, né quartina puntata, né shuffle. È una via di mezzo. Come vedete, la fata padrona è sia l'edizione del charleston, che non bisogna mai perdere il punto di vista, che le ghost note sul rullante. Il brano inizia a levare e subito con le ghost note, che tanto ghost non sono, sul tamburo che danno manforte alla cassa. Così. 3, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, adesso vi faccio sentire il brano nella sua interezza, preso dal live del 17 novembre del 72. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.